La notte di Gesù Per esempio un bel presepio può costarti una fortuna Se ci metti l'asinello con il bue riscaldante Sta scendendo già la neve Buon Natale a tutti quanti Rottamate il vecchio bove E passate al riscaldante Il presepio è Fantasia Ma ti costerà Una follia Perché un poveri scaldante Costa veramente tante Pesepio Immidente Arrivano tre remaggi guidati da GPS Donatori di doni e regali Ma la mirra che cos'è? Con maresina aromatica Estratta da un arbusto del genere Con mifora famiglia borserace Che è usata dai remaggi e nelle imbalsamazioni Sta scendendo già la mirra Sulle mummie del presepio Non vi avevo ancora detto L'ho ambientato nell'antico Egitto Una mummia fa Il pastore L'altra mummia fa Il pescatore Una mummia fa Il laghetto Mi chiama Sono mummie molto brave Sono mummie molto brave Ma hanno un piccolo difetto Questo Gli dai un dito E ti prendono un braccio Lo nascondono nel muschio E lo devi ritrovare Non perdere la calma Tieni conto che è una mummia E se non ritrovi il braccio Chiama il numero verde Pronto qui Emergenza mummie Dica Non ritrovo più il braccio Capisco Gliel'ha nascosto dentro al muschio Immagino Ma scusi come fa a saperlo Siamo l'emergenza mummie Vuole che non so Certe cose La saluto Buon Natale Sì ma adesso come faccio Chi me lo riattacca il braccio Sta scendendo Sta scendendo già l'incenso E' un Natale molto intenso Sta scendendo pure l'oro Buon Natale tutti in coro Sta scendendo già la birra Io ci metterei la firma Sta scendendo anche l'effetto Delle benzo di azepine Che il dottore mi ha prescritto Guarda che fio Te feo In me Authentic Grazie a tutti